Quali sono le novità della PAC 2014-2020? I segreti della nuova politica agricola comune sono stati svelati e sviscerati ieri sera nella saletta dell'hotel-ristorante Villa Giussi di Castelaneta Marina nel corso di un incontro, il primo di una lunga serie, organizzato dalla CIA di Taranto al quale hanno preso parte istituzioni, tecnici ed aziende agricole. Ai margini della riunione abbiamo raccolto le parole di Francesco Passeri e Vito Rubino, rispettivamente presidente e direttore della CIA di Taranto. Le novità della PAC sono tante veramente perché finalmente a livello comunitario hanno cercato di mettere un po' di ordine a livello di comunità. Però come al solito lo Stato italiano puntualmente pone paletti che vanno contro gli interessi degli agricoltori. Innanzitutto c'è un discorso di cassetta perché c'è l'abbattimento delle quote PAC. I vecchi contributi che gli agricoltori prendevano si riducono di circa il 30%. In molti casi anche a fine PAC il 2016 e 2020 potremmo addirittura arrivare al 50% di abbattimenti. C'è una riduzione per quanto riguarda proprio il premio PAC perché i piccoli produttori che prendono meno di 250 euro di contributo non prenderanno, non percepireanno più questo aiuto perché la comunità ha voluto premiare chi effettivamente vive di agricoltura. Le novità sono il greening per esempio, che in aziende bisogna fare alcuni tipi di culture. I benefici sono più per il consumatore perché si sta mirando a un'agricoltura più pulita. Per far sì che le aziende agricole possano fare le scelte o decidere anche per il discorso della semina cosa fare abbiamo organizzato questa serata in cui è possibile anche fare delle domande per ricevere delle risposte da parte degli esperti tecnici del CA della CIA. È stato anche realizzato e stampato un opuscolo che spiega nel dettaglio quali sono queste novità. Questa è un'iniziativa che ricadrà sul territorio, cioè sulla testa degli agricoltori quindi la gente ha voglia di essere informata perché partecipa attivamente a queste iniziative che noi periodicamente nel corso del tempo organizziamo.